Nel momento in cui sto girando questo video il mercato americano sta salendo con forza abbiamo lo standard in porsa circa più 2% e il nasdaq a più 1,42% però recentemente Jamie Dimon, CEO di JP Morgan, la più potente banca al mondo ha affermato che l'economia è a un passo da una recessione che il mercato azionario potrebbe facilmente crollare di un altro 20% Benvenuti su Investire con Gus Le parole di Jamie Dimon sono veramente spaventose, preoccupanti soprattutto perché arrivano da una persona estremamente potente una persona che conosce il mercato, conosce l'economia forse meglio di chiunque altro al mondo forse solo Warren Buffett ne sa più di lui ed essendo il CEO della più grossa banca americana ha la possibilità di vedere certe cose che noi comuni mortali non possiamo vedere perciò penso che valga la pena dare un'occhiata alle sue parole detto questo ricordiamoci anche guardando questo video che molto spesso questi personaggi, quindi investitori potenti, presidenti di banche o gestori di hedge fund dicono cose che non pensano per un loro guadagno, per ottenere qualcosa quindi prendiamo comunque le sue parole con le pinze e ragioniamoci sopra secondo Daimon il mercato azionario potrebbe crollare ancora di un 20% e reputa una recessione molto probabile nei prossimi 6 o 9 mesi quindi se effettivamente una recessione arrivasse potremmo essere ancora lontani dai minimi ha detto che l'inflazione alta, i tassi di interesse in crescita e la guerra in Ucraina sono grandi fonti di incertezza che contribuiscono alla volatilità dei mercati ha detto che questo potenziale crollo del 20% dipenderà da come sarà questa recessione probabilmente in arrivo, da quanto pesante, quanto forte sarà poi ha detto che al momento l'economia americana sta facendo piuttosto bene i consumatori hanno soldi e stanno spendendo il 10% in più rispetto all'anno scorso gli stati patrimoniali, chiamiamoli così, delle persone sono in perfetta forma sì, i debiti sono saliti un pochino, però non sono nemmeno vicini ai livelli del pre-covid perciò secondo Daimon i consumatori saranno in una forma di gran lunga migliore rispetto a come erano nel 2008 anche se dovesse arrivare una recessione poi dice anche che le società hanno buoni stati patrimoniali generalmente e che il credito è ancora buono quando sentite dire credit is very good, ad esempio significa che le società riescono ancora ad ottenere dei crediti, quindi a farsi prestare dei soldi dalle banche questo è un importante indicatore perché generalmente durante una recessione diventa molto difficile farsi prestare soldi perché le banche temono l'insolvenza dei loro clienti poi però ha continuato dicendo non si può parlare dell'economia senza considerare il futuro e qua la cosa si fa seria Daimon è molto preoccupato a causa dell'alta inflazione e della crescita dei tassi di interesse e cosa che non era ancora stata citata il quantitative tightening che rappresenta una riduzione della balance sheet della Fed di 9 trilioni di dollari attenti però che c'è tanta disinformazione in giro su come funziona il quantitative tightening e non si verifica effettivamente una riduzione di liquidità diretta semplicemente alcune obbligazioni arrivano a scadenza e la Fed si limita a non rinnovarle a non emettere nuove obbligazioni in sostituzione di quelle che vanno in scadenza e poi dice che secondo lui la cosa che sta mettendo maggior timore e volatilità ai mercati è la guerra in Ucraina per tutti questi fattori ma principalmente per la guerra Daimon crede che tra 6-9 mesi arriverà una recessione però sembra non essere in grado di prevedere che tipo di recessione sarà quanto pesante potrebbe essere dice che la situazione attuale è abbastanza tipica stiamo vedendo una forte riduzione delle IPO quest'anno veramente ce ne sono state pochissime si stanno anche riducendo le offerte di obbligazioni a tassi alti quindi obbligazioni più rischiose e inoltre si sta riscontrando bassa liquidità sui mercati questi sono tutti i fattori che indicano debolezza di mercato e potenziale debolezza nel ciclo economico e secondo Daimon il prossimo motivo di panico potrebbe essere il mercato creditizio quello di cui parlavamo prima quindi dei prestiti addirittura Daimon è arrivato a dire potrebbe succedere qualcosa con gli etf potrebbe succedere qualcosa a qualche paese e potrebbe essere qualcosa che non possiamo sospettare quindi un cigno nero uno di questi fattori potrebbe causare una pesante recessione poi Daimon dice di essere molto prudenti e consiglia a persone e aziende di affrettarsi a chiedere in prestito denaro se ne hanno bisogno perciò il quadro disegnato da Jamie Daimon è veramente preoccupante e tendenzialmente mi trovo abbastanza d'accordo con lui nel senso che la situazione attuale non è delle migliori proprio oggi è uscito un dato sull'inflazione peggiore rispetto al previsto e questo chiaramente significa che la Fed dovrà continuare ad alzare i tassi e questo tendenzialmente non è positivo per il mercato azionario infatti è molto strano il movimento odierno il mercato americano sta salendo con estrema forza nonostante il dato sia stato peggiore del previsto e nonostante si prospetti una continuazione del rialzo dei tassi finché l'inflazione non si calmerà i tassi continueranno ad essere alzati perciò la situazione non è estremamente positiva come sembra la stiano vedendo in questo momento i mercati secondo me l'unica certezza al momento è che bisogna essere attenti e conservativi perlomeno quando fate le vostre valutazioni fate anche una valutazione che tenga conto di una potenziale recessione nel 2023 quindi nelle vostre valutazioni di singole azioni prendete in considerazione il fatto che i risultati del 2023 potrebbero essere in peggioramento ma con questo non voglio dire non investite smettete di cercare azioni smettete di fare analisi voglio semplicemente dire che magari sarebbe il caso di aumentare il proprio margine di sicurezza quindi di essere più conservativi nelle valutazioni voi cosa ne pensate delle parole di Jamie Dimon? fatemelo sapere nei commenti per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete fino al prossimo video buoni investimenti a tutti ciao